Candidature chiuse alla mezzanotte di ieri ed esclusione tassativa agli appartenenti ad agenzie di sicurezza. Nel modulo di partecipazione alle comunarie dei 5 Stelle, compilato dall'aspirante popolo di Sala delle Lapidi, spuntava anche la richiesta di rivelare eventuali rapporti personali o di familiari con i servizi segreti. Possibilità che comporterebbe dunque la tempestiva esclusione dei candidati. Tra gli altri requisiti poi il non essere stati candidati con altri partiti in precedenti tornate amministrative, non essere sottoposti a procedimenti penali o a indagini preliminari e non aver riportato nessuna condanna in qualunque grado di giudizio. Tra i favoriti spuntano il leader del sindacato di Polizia Conza, Pigor Gelarda, e il fondatore di Addio Pizzo, Salvatore Ugo Forello. Confermati ancora Vincenzo Francomano e Marco Tedesco, gli stessi che nei giorni scorsi hanno chiesto l'allontanamento dell'indagata Samantha Busalacchi dai banchetti del movimento. Insieme a lei era stato chiesto anche l'allontanamento di Riccardo Ricciardi, marito di Loredana Lupo, coinvolto nell'inchiesta sulle firme false. La proposta era così scivolata su un altro nome, l'ingegnere Tiziana Di Pasquale. A scegliere i 40 candidati al Consiglio saranno gli iscritti al sistema operativo Rousseau, utilizzato per le votazioni, e tra i 5 più votati nella seconda tornata sarà scelto il candidato sindaco di Palermo.